Ciao ragazzi, benvenuti di volta, Stefano Parenti, trainer personali in Londra. Oggi voglio parlare del popcorno, voglio mostrarvi quello che ho comprato. Ho comprato questo in Morrison, sono come le sceglie di popcorno, per 92 pence. E questo è un paquaggio di 500 grammi. Vediamo perché il popcorno è il migliore snack che puoi avere quando stai in dieta. Ora leggeremo la informazione nutrizionale del popcorno. Vediamo. Per 100 grammi, 100 grammi è come un ballo così, davvero pieno. È enorme, è grande. Penso che, ovviamente, puoi finire, ma sarà molto tempo per finire. Quindi, per 100 grammi di questo ballo, potrai avere 375 kcal. Quindi, per quanto riguarda la quantità di alimentazione che puoi mangiare. Quindi, se non puoi mangiare 375 kcal, puoi mangiare una halia, quindi potrai avere una halia di calorie. Non importa. Non importa. Non importa. Io sto dicendo che, 100 grammi è come un ragazzo per un uomo. Per un uomo, per un uomo, per un uomo, per un uomo in generale, puoi avere una halia di 50 grammi. Quindi, 50 grammi. E ancora, puoi avere una grande portion. Per 100 grammi, per 100 grammi, potrai avere 375 kcal. Total fat, 4.3 grammi. Carbohidrate, 73 grammi. Fibers, 12.7 grammi. Protein, 10.9 grammi. Quindi, è veramente riche in proteine e fibers. È la migliore choice che puoi avere per un uomo. Per la partecipi, quello che faccio la fa? È molto facile. Ho usando il mio frate, con la strana di mettere quella con la 10 grammi, che prende 10 calgnose di un spray. Quindi, ho bisogno un spray sull'apre. Quindi, ho bisogno di 10 calorie. So, è tutto. Then I put the popcorn in the amount I need I can even wait before to cook it So if I need 50 grams I'm gonna wait 50 grams And put in the pan 50 grams If I'm gonna need 100 grams I'm gonna put in the pan 100 grams So it really doesn't matter You know the important thing to lose weight Is to be like in caloric deficit So of course you need to calculate The snack In your Kilocalories You are having for all the day But the thing is like For 375 kilocalories If you're gonna have like 100 grams Still is like a ridiculous amount of calories For the portion of the food you're gonna have A lot of my clients They say Ah but I'm not eating too much I'm not eating that The problem is Even like one cookie Can have 500 kilocal Exactly So that's why Even though you see You know This is not like the way If you eat like a lot If you eat like just small things It's like what you eat If it's gonna contain low calorie dense food You can eat much more Like that Like the popcorn You can eat more of that If you're gonna eat one cookie Just one 500 kilocal You are already You You eat like the amount of one dinner In one cookie And one cookie is not gonna give you Like the feeling that you are full That's the point We need to eat like low calorie dense food Because we are gonna eat more And we are gonna feel better During the day So if you like this video Put a like And leave a comment And subscribe to the channel And see you next time